Il titolo del brano è Un Suegno Massi, fa parte di un ciclo ormai archeologico che si chiamava Racconti Mediterranei, questo in realtà era Racconti Mediterranei 2, La Vendetta, i nuovi racconti mediterranei. Nel primo Racconti Mediterranei, da cui viene il brano che faremo adesso e siamo molto lieti di dedicarlo a voi e anche a Roberto e a tutti, nel primo capitolo quello di un po' di anni fa il protagonista era Gabriele Mirabassi insieme a Mark Johnson e a me. Il brano che faremo da lì è Les Amants. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.